L'Aquila Reale Un uomo trovò un uovo d'aquila e lo mise nel nido di una gallina. L'aquilotto nacque insieme alla covata di pulcini e crebbe con loro. Per tutta la sua vita l'aquila fece ciò che facevano i polli, credendo di essere un pollo. Razzolava in cerca di vermi e insetti, chiocciava e faceva coccodè, e agitava le ali alzandosi di poco da terra. Come i polli. Dopotutto è così che vola una gallina, no? Gli anni passarono e l'aquila divenne molto vecchia. Un giorno vide molto alto, sopra di lei, nel cielo limpido, un magnifico uccello che fluttuava maestoso e pieno di grazia tra le forti correnti dei venti e che batteva solo di tanto in tanto le sue possenti ali dorate. La vecchia aquila lo osservò pieno di reverenziali timori. «Chi è quello?» chiese al suo vicino. «È l'aquila, la regina degli uccelli». Il vicino rispose. «Ma non ci pensare. Tu ed io siamo diversi da lei». Così l'aquila non ci pensò più. Morì pensando di essere una gallina.